Come è stato detto il Cesena non merita questa classifica? Perché comunque non giocare non è mai bello, però sapevo che prima o poi arrivasse il mio momento perché comunque mi stavo allenando bene e il mister comunque mi continuava a dar fiducia anche non facendomi giocare negli allenamenti, si vedeva che teneva molto a me e alla mia persona, ci teneva a farmi migliorare molto e credo che l'ambientamento che c'è stato di un po' di mesi mi ha aiutato ad arrivare pronto quando è stato il momento di giocare. No vabbè per me è indifferente, giocare a 3 o giocare a 4 non cambia molto diciamo, sicuramente era arrivato per giocare una difesa a 3 che ci giocavo da molto tempo, erano 2-3 anni che giocavo difesa a 3, poi il cambiamento a 4 diciamo comunque è il tempo di riabituarmi, però credo che un ragazzo che fa il nostro lavoro deve adattarsi a tutto perché comunque non parlo solo di difensori ma comunque anche i centranquisti e attaccanti non possono fare solo un ruolo, deve adattarsi perché i moduli sono tanti e ad ogni partita si possono cambiare vari moduli, quindi un giocatore deve essere bravo in tutto, deve sapere gestire i momenti e affrontare al meglio la partita. Diciamo è la prima donna della mia vita perché comunque è lei che mi ha cresciuto anche se sono andato via di casa presto. Ho un legame molto stretto con la mia famiglia perché ci tengo molto, mi hanno iniziato l'educazione quindi se oggi sono qui è anche grazie a loro, quindi ci tenevo nel momento in cui ho firmato, per me era un motivo di orgoglio anche portare mia madre perché comunque so che ha fatto tanti sacrifici per me e quindi mi sembrava una cosa bella da fare, infatti è stata molto felice e credo che questa cosa non se la dimenticherò mai. Grazie a tutti.